Il progetto Covid How To, la gestione digitale della prima pandemia globale del nuovo millennio, Fondazione Poliambulanza di Brescia. Siamo collegati, dovrebbe esserci Claudia Baresi della Fondazione Poliambulanza di Brescia. Eccola qui, Claudia. Ciao, Claudia. Collegamento con Brescia è sempre un po' problematico. Buonasera a tutti. Siete contenti o no? È sempre difficilissimo. Ci sentiamo. Io sono molto contenta, credo che sia il coronamento di... Mi sentite? Prova, prova. Vediamo se riesco a collegarmi, ma ho qualche difficoltà. Ci sentiamo, vai, Claudia, ci sentiamo. Ok, perfetto. Sono molto contenta e credo che sia il coronamento di tanti anni di lavoro che abbiamo fatto con la Lean. Ringrazio davvero tutti, tutte le persone che lavorano in questo ospedale e che hanno reso possibile questo progetto. Non solo la direzione, ma a tutti, tutti gli infermieri, i medici, gli ausiliari, il personale amministrativo, tutti. Perché in quell'occasione tutti hanno dato il loro contributo. L'IT è una gestione digitale, abbiamo fatto un lavoro veramente enorme, straordinario, ma credo che veramente i risultati che abbiamo ottenuto siano innanzitutto per i nostri pazienti. Grazie davvero a tutti e sono veramente molto contenta. Grazie. Brande, va bene, Claudia, grazie a te, grazie per aver partecipato. Grazie.